Quindi è libero l'altro centrale dell'Inter che in queste prime battute è stato spesso Praticamente metà dei gol della squadra portano la firma tra gol e assist di Ciccio Caputo A cercare proprio Caputo, balla messo fuori Benasser, la cummina, spalla la porta, prova Girna Benasser, lo attacca Icardi Dopo l'inizio promettente un calo, il prestito della nostra Borca Valero che aiuta la difesa allontanando di testa Ancora Benasser, in dieci l'Empoli perché Troverè ancora non è rientrato Lo schermo ha molto bene, gli porta via il pallone Benasser, poi acqua acqua Però non si alza la bandierina, rimane sospetta, bandierina che si alza adesso Noi ne approfittiamo per il primo flash Pulitano qualche volta deve venire più dentro e poi Spalete diceva Versalco La sesta partita da titolare per il 97, Jakob Rasmussen, arrivato da Rosenborg In stiva un tersext a basso e stretto, quindi Pasqual che a grande piede si sbilanci in avanti Rischia Benasser alla fine la palla Ha danneggiato Vessino, però buona la giocata ancora di Traore, anche il rientro E poi però di nuovo l'Empoli da accompagnare, quindi la strategia di Iachini fino a questo momento Grazie 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 Grazie